ciao amici di twitch benvenuti ragazzi dalla mitica bragari barco drums ciao il mitico lord e grandissimo pierpaolo buonasera a tutti ciao e il dissociatore ciao amici di twitch benvenuti ragazzi allora arriverà morris e zumitullo credo 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 giusto 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 amico mio è bella lì allora noi possiamo incominciare a giocare o possiamo chiacchierare un attimino nel frattempo che magari arriva subito zubitullo e magari e no magari e dopo arriva morris zubituzzo 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 ok non so che cosa ti devo dire amico mio io ho sempre tutto bene non è che magari stai scaricando qualcosa o un po la linea con cellulare ciao amici di twitch benvenuti ragazzi che ne so eppure c'è la figlia vecchia oggi pomeriggio mi ha dato problemi eh internet però io ti sento proprio bene eh cioè io ti sento bene la tua voce senza scatta né niente eh e per esempio a Pippo lo sento bene se Pippo mi parlo lo sento bene invece te quando vai per essere pure Marco che vende che tu me parli per essere pure che a una certa dici tre quattro parole e poi dopo ti sento un attimo nudo ah che peccato non sentire Marco Drums Games è un peccato amici miei dai dai cominciamo a far qualcosina fai a tre non far venire gente strana che la gente strana poi fa solo bordello ciao stream elements grazie di essere venuto qua stasera con noi abbonati mi raccomando abbonati stream elements chi è che c'ha la ciao sol potete abbassare l'audio della chat ragazzi perché fa ritorno nel microfono facciamo il look allora qual'è sarai sarò io o non lo so adesso non c'è più eh se non me lo so più si si dai dai avviamo una cosa a tre ciao Kevin si lo so a chi sei tu ormai ciao Kevin sono Kevin ciao Zubituzzo TV grandissimo vieni a giocare con noi mitico ah ah grandissimo grazie per seguire il canale oh grazie che hai iscritto il mio canale grandissimo grandissimo fatemi una partita intanto che arrivo va bene va bene va bene grazie Zubi io dico sempre le prime tre quattro lettere di tutti gli amici che entrano da Twitch grazie 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 del follower e grazie che ci facciamo una partita alla riscaldimenta e poi dopo viene anche tu eh dopo arriverà anche il grande Morris ok ci siamo ci siamo ci siamo dai dai ragazzi dai ragazzi sono carico hai capito grande il tiburon grande Zubituzzo grande Zubituzzo io ho un problema con l'audio porca miseria tu non hai l'audio scusa scusa non hai l'audio del telefono senza che lo fai cioè con l'auricolare vi senti da lì e io? ah dall'auricolare da successo si però dall'auricolare perché se no se no poi rientra ciao Giulia grande cioè se tu metti l'auricolare del telefonino della live secondo me vabbè però sente meglio che sentire uno che ciao 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 prova prova sono tutti esperimenti ragazzi noi siamo sperimenti ah sì sì tutto esperimento ragazzi tutto esperimento ciao ciao se non parlano tutte le mie no ma vedrai che senti l'audio di lì al massimo senti tuo doppio audio ma ma nel senso non è male neanche sentirti doppio sto aaaah sono muerto ahahahah lo sbriamo un po' beh sempre il riscaldamento questo dai eh sì e se no avevo fatto un partitozzo da paura tipo 6 7 aaaaah la nave andiamo sulla nave andiamo sulla nave quando partiamo ma si dai ciao a tutta la chat grandi ciao ragazzi tra un po' arriva grande Morris e cos'è Giulia? ha rinnovato l'abbonamento ma no grazie Giulio zubituzzo tra un po' arriva ragazzi e grande Morris intanto riscaldiamo grande grazie grazie Giulio allora il tiburonco dove dice ad andare nave, nave, nave ciao Fabrizio grande Fabrizio si si a meno io credo di si sono andato io ciao Fabrizio, benvenuto adesso stiamo riscaldando dopo arriva il grande Morris ciao Zaniboi prego Marco grande Giulio grande ciao Leo senti meglio così mitico lord più o meno si dai dai hai risolto un po' il problema dai le voci in testa ma vabbè ma ci sta dai si si tutto nella norma tutto regolare tutto regolare ci si è voglia stanno arriva stanno arriva ha già subito così ok uno l'ho ammazzato vieni vieni qui ecco me grande ok ci siamo salvati prego 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 porca loca c'è qualcuno che spara la ah che tocco oh niente stasera io dovevo giocare con i pussi ma lo segnalo grazie grazie perché cosa no è un bordello oh ma che ho preso il cieco dai allora vediamo dov'è ah l'ho visto hai visto? ce ne sono due tra l'altro uno è dato vai è dato è dato voglio andare sulla nave oh da dietro aiuto voglio andare sulla nave grandissima è la pubblicità di mamma mia io non so un po' di ramos dove scavano stavano? ma siete dei punti? ah ok ok no no saluto a Giovanni grande Fabrizio saluto a Giovanni ciao Giovanni ciao mitico Giovanni grandissimo allora muore da che stasera c'è una live pazzesca raga non si può fare amore perché è pubblicità non si può fare pubblicità è un po' come è andata ciao Chris grandissimo ciao Chris ahah bella lì raga attenzione che è sopra è sopra? allora ragazzi tra un po' arriva Morris e grande aspetta allora tra un po' arriva grande Morris allora ragazzi ok vado vado tra un po' arriva Zubituzzo TV raga ah no sei tu caspita scusa e il grande in grande Morris eh raga sto mangiando tanto eh sì ci crediamo è colpa di tua mamma ah 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 quanta roba avete mangiato oggi uh raga raga c'è qualcuno qui? ok sto aspettando la tolaiza ieri eh sì eh grande Chris è vero è vero è vero eh ieri è stata è stata colpa degli aggiornamenti aggiornamento aggiornamento sì tutta colpa degli aggiornamenti ragazzi dite quando dobbiamo spostarci ma c'è uno che sta arrivando da sinistra eh eh sinistra sì dove stai andando tu? ah è lui no 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 ok non è lui era di lì però eh vedi che c'è nell'angolino c'è c'è il puntino rosso dov'è che è quello là? ah no forse un po' più indietro eh sì un po' più indietro andiamo giù andiamo via vieni sì vieni sì prendi le coperture ok fatto grande grande giuri grande yes ok andiamo raga che cos'è sta cosa gialla che sta c'è un obiettivo da uccidere c'è un fondato da uso qua dentro eh e in questa e che ci vuole no? qua 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 grande 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 attenzione ammazza ammazza occhio grandissimo grandissimi ragazzi ho chiuso la porta vediamo sopra sì andiamo sopra non allontaniamoci se avete la cosa la corazza prendetene una attenzione perché qui sono grande giuli ciao ragazzi benvenuti mitici ciao amici di twitch grandissimi bella oh mio dio dove sei? sopra bombardo ci stiamo solo scaldando ragazzi eh oi 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 andai dietro dietro ragazzi dietro sopra è sopra attento chi è che c'è dentro ancora vivo no allora dovrebbe ha detto fatemi una partita e poi arriva anche lui quindi dovrebbe arrivare Zubituzzo porca manetta bella ragazzi benvenuti amici Pierpaolo il titolatore chi è che c'ha il doppio qui che non si sente nulla ragazzi non lasciate il microfono l'audio del vostro cellulare acceso il problema sto io perché non so come fare aspetta ciao amici ciao amici ma non c'hai l'auricolare metti un auricolare della play da un orecchio un auricolare del cellulare dall'altro ciao amici grandissimi no no non ce l'ho ce n'ho solo uno l'auricolare è un bordello vabbè ma anche se non senti Marco Dranz tanto senti sempre Pierpaolo sinceramente mi raccomando seguite il canale grandissima Giulie non ha dato il segno ancora dovrebbe arrivare un po' tardino ma il tuo amico scusami dovrebbe entrare grandissimo ora vediamo dopo questa partita andiamo nella lontana ok allora Zubi adesso appena finiamo questa e ti invitiamo subito perché doveva già farlo prima invece non l'ha fatto ma tanto adesso crepiamo subito bella 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 chi devi invitare qualcuno eh tuo amico Zubi Tuzzo il nostro amico grandissimo ah ha scritto eh aveva detto fatene una poi ciao Manuel eh esci eh infatti ciao Manuel ciao Manuel adesso usciamo eh Zubi così ti possiamo invitare dentro ma come si fa a uscire? ok fa tutto lui si è bloccato il gioco ragazzi no incredibile incredibile Manuel ciao raga grandissimi mega warzonata ragazzi stasera guest star vabbè sempre l'amico Lord e Pierpaolo che sono sempre i mitici eh sta accendendo adesso dai dai ti aspettiamo ti aspettiamo Zubi Tuzzo grandissimo poi special guest ragazzi Zubi Tuzzo TV grandissimo grandissimo streamer che verrà con noi stasera speriamo che si diverta con noi così ne faremo altre altre best matti grande ciao ciao best io ci sono io ci sono però Marco non lo sento io ci sono io ci sono come no oh sentire la live se ci sono ehi io devi farlo poi io non lo sento a Marco io vedete eh vabbè mi dice offline Marco raga sentire la live sentire la live Carlo mi devi aiutare oh e no ragazzi è problema di connessione no no non ho fatto niente e si dice ma che eri offline vabbè ma non ero offline scusa ho anche il video dimostrativo l'ora degli annunci l'ora degli annunci dai grandi ragazzi non so se mi avete sentito prima perché dicevano che non andava al microfono ciao best ciao Manuel grandissimi adesso ci siamo a bomba a bomba stasera allora vediamo di invitare l'amico ho riscattato ho riscattato che cosa hai riscattato amico mio come faccio a invitarlo che cosa è che hai riscattato hai riscattato qualcosa Manuel si ha riscattato si ha riscattato l'ora degli annunci oh grande Manuel Manuel giusto grande l'ora degli annunci bravissimo amico mio spendete sti skate ehi sto invitando ragazzi non so come si fa vedi che su whatsapp ti ho mandato come si chiama eh ma l'ho già messo dentro ah ok cioè l'ho già messo dentro ma dove lo trovo poi la seconda volta allora inviti activision è meglio che lo riscrivi allora eh non puoi farlo tu che non è che se no devo farlo vedere online si vede cioè sinceramente a parte tutto eh non vorrei far vedere eh capisci però devo uscire io dai ma no perché devi uscire no devo uscire dalla live stavo vedendo io la live ah 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 ok beh dopo rientri ciao amici di twitch mi raccomando scrivete ragazzi così vi salutiamo vi salutiamo in live amici miei ciao mia moglie non pronuncerà mai il tuo nome mia moglie ti chiama Shader quindi tu sei Shader da oggi ok ci sono ho accettato le amicizie allora Zubituzzo ha accettato le amicizie e c'è cioè nel senso che c'è che può giocare come facciamo a invitarlo aspetta Zubituzzo eccolo qui lo vedo lo vedo lo vedo ah lo vedi ok invitalo perché c'ho il no io c'ho il Shader come si chiama perdonato buonasera grazie eccolo buonasera grande ciao Zubituzzo piacere sono un grandissimo Marco Drums Games ciao Marco piacere ciao ciao grandissimo Vito grazie che bravo a giocare Zubituzzo allora io ti dico una cosa Zubituzzo non mi ricorderò mai il tuo nome perché sono una memoria andata ormai la mia parte iniziale è andata quindi prima che mi ricorderò bene il tuo nome ci vorranno 6, 7, 8, 15 live ti chiamo Zubi scusami al massimo poi quando poi prendo bene poi ti chiamo giusto il tuo nome scusa ma non lo faccio a posto lo dico tutti anche nella live mi chiamo moglie non fa neanche più il mio nome no cominciamo con l'isoletto che si scaldiamo un po' ok dai scaldiamo no il denaro sporco ritorno 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 quartetti bravissimo bellissima grande Zubi 274 livello molto ma molto più bravo di noi ragazzi dai che stasera c'è Zubi e poi dopo arriva Morris praticamente sono tutte vinte grazie 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 segui la live con onore con classe questo è importante questo è importante grazie grazie allora amici di Marco Drums seguite anche lui lo trovate dentro su Twitch così potete seguire anche il nostro amico Zubi Tuzzo ragazzi pubblicità eh certo è così che si fa spubblici te vegani te fraterni te chris non dovevi giocare con Morris Morris arriva chris non dipende da me è andato con sua mamma in giro adesso appena arriva dovrebbe arrivare anche il mitico Morris Zubi Tuzzo dopo arriva Morris eh il nostro amico bravissimo ha dieci anni e gioca nei Kulesh il mitico gruppo italiano che fanno e-sport figata 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 mi sento mi sento una live fighissima questa qua stasera ragazzi eh forza forza impegno stavo dicendo in caso poi io e Ale facciamo la tour e riusciamo certo certo si fai due partite uno e due partite l'altro dai così rimanete comunque in party eh io faccio così quando entra Morris esco io esco una party perché tanto oggi non riesco a sentirvi bene ah buon casino andai facciamo una volta a testa no no tanto io quando faccio le correggia sono ok buonasera amici di Twitch abbonatevi grazie amici di Twitch esatto faccio due partite come arriva Morris stacco come vuoi se no rimani dentro ne fa una una grandissimo PR e una tu una tu una PR e una tu noi ci divertiamo ragazzi è importante divertirsi dai intanto poi l'oro si mette a taricare i sondaggi un'oretta e mezza esatto un'oretta e mezza sì anche noi in settimana Zubi alle 11 io smetto di solito se no poi domani mattina chi mi alza più da letto poi arrivano altri ragazzi che volevano giocare certo certo bravo vedi infatti anche noi vedi che gioca un po' uno un po' l'altro così almeno ci accontentiamo tutti bella lì bella lì grande grande ti voglio bene allora Sharder se dopo c'è posto ti invito stasera siamo belli messi pieni però poi se al grandissimo Zubi poi gli piace queste cose qua possiamo anche giocare insieme altre volte e poi facciamo facciamo le lobby anche con te Sharder capito adesso siamo un po' incasinati amore vedi tu va bene va bene va bene Sharder amore Sharder ok aspetta dov'è che bisogna andare mia moglie mi sta sconfondendo ok mi sconfondiamo ma questa è la prelobby oh no questa è la partita oh ma che 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 sta a morire oh che sto qua è il tempo di iniziare una terra no ok ma cosa è successo scusami ma cosa è successo che era qui un bordello c'era qui ma che pensate ma sai credevo che era che era come si dice che era la prelobby vi giuro ragazzi mi è usata di culo ciao ragazzi benvenuti benvenuti amici di twitch che avessero a claim ciao giuli ciao giuli wow ragazzi che fortuna ciao giulio domani buonanotte buonanotte amica mia ok ragazzi allora c'è gente qua eh con le mani che tre che canta allora voi 10 amici arriva arrivano e c'è il cecchino dove ha messo il segno aspetta fermo lì fermo lì ah ok ti sento oh raga 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 dietro dietro quello di prima aiuto 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 arriviamo eccomi no no sono armi ok allora ragazzi il problema è che arrivano oh c'è uno c'è uno c'è uno imboscato raga raga è qui dentro non c'è bombe amo ma che gioco hai visto tesoro ecco sta qui sopra sul letto sta qui sopra sul letto ah dove sono io sta sopra al letto sta sopra al letto sopra al letto ok ammazzato ammazzato resisti calabra resisti no c'è fatta l'hai visto grande io sto arrivando uno che sta fuori a casa eh si forse entra ok ciao salutami vittorio ciao grandissimo sono ale ciao ale grandissimo ciao ale grande seguici ale ok dai se lo sei se non sei scritto eh andiamoci di qua si però sono dentro raga non è che posso andare via così eh eh devi uscire perché vengono tutti là ormai venite qua contro non ti ricordi ale andiamo contro si 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 che attenzione zio vittorio ce l'hai dietro adesso adesso si va vittorio vittorio della squadra io rientro mi fa mandare le sub ecco ciao ok grandissimo ok non so che rimani dove sei ah ok chi è che è morto malissimo mi sparano mi sparano anche dall'alto come siete messi aspetta il testo raggiunge marco davvero si è morto ancora ma non ce l'ho fatta mi hanno impedito di congiungermi a te ragazzi io mi vado a contro no 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 per il momento no eh no per il momento no stiamo facendo warzone fortnite e no scurro ragazzi e Gran Turismo 7 domani sera ragazzi Gran Turismo 7 ore 20 e 30 vi aspetto tutti che compriamo un sacco di macchine allora 13 secondi ritorno raga ho salvato un sacco di situazioni eh grandissimo Marco Drums Games bravissimo Chuck Norris bravissimo bravo 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 vediamo un attimo dove siete siete di fianco però la ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi no 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 mortal kombat no 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 mamma mia mamma dove sei ok era andato a prendere il 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 l'istante troppo distante è possibile ma allora voi siete lì arrivo capito io sono oi cecchino 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 che cosa avete qua dal buco raga non lo so non me lo ricordo mitico allora andiamo dietro stiamo andando da lui da buco qua arrivo arrivo sono dietro anch'io c'è un buco qua vediamo un attimo riduzione ok 8 arrivo qui cos'è una scorciatoia ok attenzione dietro io guardo dietro libero libero ciao ragazzi si iscrive amore mio grande mitici aspetta guarda dimmi il messaggio di moris ok eccomi ok potrei fare no ok vedo vedo ma siamo protetti da da safe vuoi soldi possiamo andare lo shop dove nessuna parte qui 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 ciao deciso mitico deciso ben arrivato amico che fighissimo con le mogli marco non stingere vai vai bombardamento in precisione prendilo e bombarda che arrivano tutti qui arrivano come si sa per bombardare ciao giu giu salve 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 allora tra poco arriva moris se fa l'aggiornamento arriva moris ragazzi se mi coprite faccio il lancio allora io ti sto coprendo se non mi seguano oi 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 no raga arrivano arrivano raga arrivano attenzione che arrivano ciao amici tu dici benvenuti ragazzi grazie grazie mille grazie mille grazie mille stanno arrivando ragazzi ciao chris oh ragazzi no 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 sono sopra i tetti comunque sono sopra i tetti e sui tutti sono sopra i tetti attenzione arriva il tuo amore adesso tuo amico guardate le headshot che faccio è vero è vero ho visto grandissimo a terra a terra a terra conviene spostarsi ragazzi o no mi stanno sparando mi stanno sparando dalla nave ma sei serio qua sopra uno mi sembra di averlo segato che stava salendo la scala di dove siete voi uno sul tetto e sul tetto sopra di voi occhio se stanno se c'era la nebbia raga nessuno io sto sulla zona sicura ma occhio ci stanno a seguire parecchi nemici ciao gioco 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 best matti buon natale scusa sono arrivato troppo a fuoco magari pensato che ero un nemico ora guarda che ci siamo dai che ci siamo ti avevo visto ok bisogna curare le zone diverse tu guarda di lì perché sennò ci fregano da dietro ok io sto a guardare sulle finestre ecco tu guarda di lì io guardo dietro sono due da fuoco due attenzione ho riuscito a salire dove è stato vai fuori tu vai fuori tu uguale ok certo vai fuori due certo non ricorderò allora se gli sparate grande eccolo grazie lascialo morire lì oh ce ne saranno andate qui no 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 caspita riesci a entrare no beh credo non lo so aspetta no per poco no terra ciao amici di twitch benvenuti la maschera non ne ha ragazzi io sono dentro comunque raga sono dentro la casetta sopra sopra il coso qui portadocumenti ciao amici di twitch benvenuti ragazzi si si portadocumenti ciao libe meglio meglio allora gioco gioco il boris arriva libe sta facendo l'aggiornamento orca miseria bisogna spostarsi ancora raga cioè non ho capito col cerchiolino lì cosa succede col cerchiolino che fai con 15 proiettili riprendi con la mitraglietta no ma bello hai la mitraglietta mi sposto aiuto dai bravissimi ragazzi grandissimi è stata bellissima dai 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 ciao amici di twitch ciao ragazzi gioco gioco allora c'è il grand allora stasera vi dico chi siamo sopra 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 no no non devi proviamo un battle royale no fai ancora uguale va bene come volete allora stasera c'è special guest va bene va bene che siamo ancora troppi tanto sarai l'unico l'unico che rimarrà in vita dai allora cari amici c'è best guest zuvituzzo ragazzi è un grande di warzone è venuto a trovarci è diventato nostro amico stasera io lo ringrazio e seguite anche il suo canale ok ragazzi poi c'è il grandissimo lord e il grandissimo pierpaolo grazie grazie zuvituzzo comunque che sei venuto con noi stasera grandissimo che mirino usi zuvitù il 3x quale quale al fucile che usi sempre per fare lecce che fa il mirino il 3x come il grandissimo a quello di base anche io uso quello di base ma me dai 50 50 però solo se fai un bel colpo subito a terra perfetto tra un po arriva anche il grande moris dei culesci ragazzi la velocità va in mira molto presto come fa il grande moris il carnet carnet si chiama il carretto ma è di precisare no quello di ok amici in facilità che ce lo trovi ok i mandorlatori seriali e vieni già allora no qua non c'è la nave perché siamo nel battle royale ma si può andare sopra il gommone qua lavoriamo di squadra si gioco gioco come classici oro che si separano si sta facendo l'aggiornamento scrivilo che è meglio se no poi ci facciamo troppo si gioco gioco sta facendo l'aggiornamento arriva arriva state tranquilli state dentro live sembrano per il campioncino marco sembrano moris e forte questi sono i suoi amici quindi giustamente allora zubituzzo è il capo vediamo dove bisogna andare all'arsenale vai vai arsenale via via segnino viola o quell'arancione all'arancione 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 mi guardate io ho visto il viola grande gioco gioco scrivi proprio moris arriva allora manteniamo c'è la larga la larga agli ha già sparato al volo cazzarola che è un grande youtuber ragazzi già mi consiglio di andare a seguire anche il canale del granissimo zubituzzo e raga bravo bravo e lui gioca parecchio warzone poi non so se fai altri giochi zubituzzo gran turismo 7 anche tu anche io faccio faccio il gran turismo 7 fighissimo lì a piccogliente bomba o la ragazza aia ragazza 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 bella 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 io sono dentro una casetta c'è ai 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 8 c'è gente sicuro e no non me la gara no lo stai marco mi sono un po perso 15 minuti scrivi quindi minuti cercavo che arrivò un nemico è da voi ho visto che stavo cercando di andare a salva marco ma non no 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 non so marco drums io sono al gula graga dai spero di riuscire a venire anch'io nel gula no ma anche al quarto dai arriva 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 devo ancora fare il gula sto andando a pugni eccolo qua adesso non mi sono andato a me risolvi con le maniere però quasi ma dai ma era mezzo morto molto anche a me mi è paura saltano questi qui saltano però fatta ce l'ho fatta grande ale grande ale tanto ragazzo andando per fuori grande ale grande tui l'ho fatta che culo allora devi fare una cosa ancora per me per marco ovvero devi accumulare 8 mila dollari ah come niente tranquillo quando accumuli 8 mila dollari ci puoi far rientrare e io vabbè anche 4 mila fai entrare marco beh adesso stiamo vedendo stiamo vedendo il grande Zubi ciao Mitsu grandissimo ciao se non sei iscritto Mitsu iscriviti al mio canale grandissimo Mitsu grande 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 arriva Mori sto facendo ragionamento oh che è qua oh oh è ferito è ferito no cavoli dai grande ale guardate guardalo 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 ah come ce la fai a vedere con il milino termico oh lo sai che gliela faccio meglio con quel milino termico io giocavo io giocavo con un amico mio di Roma a World Zonale i primi tempi che ero uscito c'era un milino facevo più albero ah ok ok ma fai quella di prima che è più divertente mitico il ragazzo che deve entrare tu a 10 anni se vedi come gioca eh ma i ragazzini imparano subito eh bravissimo eh bravissimo non so nulla giù 15-20 kg alla volta mi frega che io non ho mai giocato in questi giochi di FPS ho sempre giocato a giochi di out eh anch'io anch'io però io sono più per Metal Gear Solid Resident Evil quella tipologia io invece zu ci giocavo tanto ma purtroppo gli anni si fanno sentire e ora sono diventato un vintage dicono un vintage si diceva vecchio la volta però anche linda è bravissimo Horris è bravissimo a 10 anni giusto Marco? si 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 e tu pensa che praticamente ha giocato lui e mio figlio Leonardo a Fortnite perché loro fanno anche quello un disastro ragazzi vi dico solo un disastro tra lui e mio figlio hanno fatto un disastro sono entrato io ero sempre imparano in fretta sono bravi hanno i riflessi e poi vabbè Morris è veramente bravo c'è anche i contratti con Kulesh quindi sapete no ragazzi che devi essere abituato quando giochi con i giochi di auto io gioco sempre col volante quindi il pad non so giocare col pad tipo GT7 col pad non so giocare subito tu di dove sei dove sei sono siciliano siciliano ok io provincia di Bari c'è un mio amico a Bari sai il grandissimo Franz SK no non c'entra un cazzo amore Barletta Bari Barletta è Barletta dall'altra parte amore non so dove è Barletta dove è Barletta raga no è sempre dall'altra parte di Bari si e saranno nemmeno un'ora di macchina un'ora di macchina ma è un'altra roba è come Milano e Varese c'è un'ora che cazzo mica uguale comunque sì comunque Franz prima di essere interrotto continuo Barletta nel Foggiano ah vedi Barletta nel Foggiano invece Bari è Nel Bari 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 è bravo eh Bari con il Dormacco Bari 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 ragazzi abbiamo 1300 km di distanza non posso sapere tutto da quelle parti lì anche perché se vi dico eh dove sei? Varese Varese con la V Varese a 40 km da Milano ecco perché magari Varese non l'avete mai sentito però Milano sì dai Milano è provincia di Milano è provincia di Varese Varese ma non carica? ah non lo so ah non lo so abbastanza bene in Italia bravo bravo aspettiamo un altro po' vediamo no io più o meno eh non lo so si conviene sempre tornare alla lobby alla lobby ah ok e poi fai quell'altra aspettiamo un altro po' fai quell'altra no no se puoi esci fai l'altra che è meglio eh pierre non battle royale l'altra modalità quella che abbiamo fatto prima i quartetti la che era più più vivace mi pare che fa eh vabbè ma ora non posso uscire io ora se devo uscire devo abbandonare non so nulla non fare così adesso quando arriva li chiediamo no non si può chiedere niente noi giochiamo ragazzi ci divertiamo il resto speriamo quindi giochi pure a GT7 si 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 diciamo che è il biogioco di punta ma è anche il biogioco preferito faccio anche Marco anche Fortnite allora io ho tutti i giochi perché li ho comprati tutti dal day one da tre anni a questa parte tutti però sto vedendo che mi piace davvero tanto portare il gran turismo la gente piace quando andiamo a correre così e poi ho voluto provare a portare anche dei giochi sparatutto chiaramente io ce ne ho tutti i club tutti e tutti gli altri che ci sono però il casino è capisci se non sistemano le lobby bro non sta caricando 10 io dovrei chiudere l'applicazione più avanti sicuramente e se giovedì sarà un aggiornamento mi sembra sul GT7 si e cosa fanno eh Marco ma io devo chiudere l'applicazione ora è vero eh speriamo che non devono chiudere tutti però perché come faccio io mi chiudo la live si si tutti no si la dobbiamo chiudere tutti la applicazione no e prova a chiudere tu vediamo cosa succede magari ci butta fuori ci fa il messaggio di errore sicuramente perché a me non mi compare niente in sede Marco ti insegna un trucco quando vai alla connessione si togli la connessione e ti dà 90 secondi di tempo per ripristinarla quindi ti assenterai per una trentina di secondi dalla live e poi ritorno e come fai a fare questo? attacchi e stacchi poi ma io vado in wifi devo togliere il wifi e rimetterlo? cioè voi avete state riavviando tutti? magari magari gioco gioco se voi mi date una mano fare gli abbonamenti ragazzi almeno vedono che sono importante allora amici miei guardate la cosa più odiosa oh forse forse è andato forse è andato scusate così non riavvio io grande gioco bella lì dovete aiutarmi gioco gioco dovete portarmi un sacco di gente sul canale quando arrivo 3, 4, 500 capisci che gioco gioco ho un peso no? un bel po' di abbonamenti un po' di gente che mi segue allora hai un peso e poi posso anche chiedere contrattare no? nel senso purtroppo così ci divertiamo tra di noi vi ringrazio tantissimo e è un po' si fa un po' fatica capito? però il grande moris tra un po' arriverà perché stavo facendo l'aggiornamento ragazzi ma se l'aggiornamento era come il mio di 90 giga il grande moris mi sa che arriva un altro giorno adesso gli sto parlando ha detto che dovrebbe arrivare quindi abbiamo solo un attimino di pazienza del grande moris e tutto quello che noi ti vogliamo bere oh gioco gioco sei un mito grazie adesso parla amore mio grande gioco gioco ma devi portarmi un sacco di gente vai a dirlo ai tuoi amici oh anch'io anch'io vedete che ragazzi io il canale lo faccio perché è una figata e mi piace anche poter dialogare con voi giocare fare disfare però sostanzialmente a me piace giocare e spero di passarvi vedi qui in famiglia con mia moglie il cagnolino di passarvi la mia voglia di giocare la mia allegria nel gioco anche a voi e passare delle belle salate insieme ridere scherzare fare un po' di cose insomma capito solo vedere la televisione ecco queste live così un po' particolari anche perché io non è che sono proprio bravissimo e quindi butto tutto sulla simpatia gioco eh mon amore butto tutto sulla simpatia esatto ma la chat è morta la chat è morta perché allora la giuli e tanti altri sono usciti ho visto che sono usciti 3-4 persone e poi quando non c'è il moderatore la giuli o lord che fanno proprio la moderazione non riusciamo a fare i i sondaggi le cose così e quello fa animare anche la chat capito grande gioco gioco quindi più che parlare grande ragazzi vedi più che parlare e fare ogni tanto la chat invece sono dei giorni che non riescono neanche a stare lì dietro da quante robe si scrivono poi sai dipende domani sera facciamo Gran Turismo comunque se ti va di vederlo compro un sacco di macchine e facciamo cose fichissime allora domani non farò in Gran Turismo l'online domani è solo offline solo noi che giochiamo giocherà anche la mitica Bragali ecco qua oh grande e noi ci stavamo invitando ma non venivi eh scusate ragazzi ma non io non ho il ciao Lina grandissima grandissimo scusa non non mi arrivano i messaggi sai quando sono in live non arrivano dovevi scrivermi su whatsapp stavo ti stavo scrivendo whatsapp no gioco puoi far tutte le domande che vuoi vai tranquillo vai tranquillo ok chi manca Ale pensa che ci siamo tutti io non lo vedo però e invitalo eccoci ah eh ragazzi sui server dai grande linaus benvenuto ciao amico grandissimo era il ragazzo che gli avete ricordi gli avevo detto Lina credevo che era una ragazza invece lui dice io sono un ragazzo vedi che me le ricordo le robe come Marco ti si è staccato la live no praticamente io stavo parlando con gioco gioco no e a un certo punto mi ha ricaricato non sono uscito io siete che voi siete usciti avete staccato il gioco a me mi ha riportato nella lobby fico eh fantastico proprio wow eh no scusa devo interrompere la live magari poi chi è dentro è un casino per adesso sono in live però su twitch non mi dà che sono in live perché erano ma c'hai problemi di server ma non lo so no anche suvitus è live ma dice che non è non è in live fammi vedere ciao amici di twitch quindi devi avviare tu Marco ah e allora dillo Roberto ritorno quartetti eh ciccio io pensavo che facevi tutto te Marco che cavolo dai Marco che cavolino di Bruxelles Vito ma tu ce l'hai la 500 con la vecchia Gran Turismo si ah Marco per farmi una gara con la 500 eh volentieri volentieri ok ciao vici di twitch adesso va si sta andando sta andando sta andando forse va 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 preparate l'attrezzatura manca poco quasi quasi se ne andiamo a allora scegliamo le armis ah no ma questa oh mi stanno sparando ah 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 la pre lobby non me lo ricordo non me lo ricordo mai ragazzi prima che ero è in partita e credevo che non era la pre lobby è stata bellissima vi giuro allora questo è quartetti eh dove andiamo i quartetti raga andiamo sulla nave io dico di andare su chemical 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 come si dice la cosa chemical dove sta il fumo verde potrebbe essere posso salutare ciao 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 ragazzi ah tu stai salutando i tuoi scusa pensavo che salutai me no 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 vai tranquillo è tranquillo l'ho capito dopo l'ho capito dopo scusa no no è stato per mutarmi no no è tranquillo è tranquillo faccio anch'io così vai tranquillo tanto sappiamo che quando salutiamo qualcuno non stiamo parlando tra di noi stiamo parlando con i nostri con i nostri fans allora dove andiamo dove andiamo dove andiamo verde ok si dove c'è il simulare caspita raga ma sta arrivando un pacco di gente qua andate giù questa la vuoi tu ok 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 grazie ok boom qui c'è un armi c'è le armi mina anticarro pronta chi lo vuole il cannone qua no no io sono a posto eh devo di non so nulla non so nulla giuro 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 giù giù se lo sanno vi dirà ma bisogna fare solo soldi bisogna anche non so niente punto coinvolgiamo solo per ridere e scherzare non è che chiedo in basaglia c'è una cassa munica eh c'è uno che è salito sul tetto cos'è quello dell'acqua come si chiama quello dell'acqua l'SPD è buono ah ho capito dove stai a girare vieni aspetta no io non c'ho niente zero scusa tu hai la taglia beh entrami li trovo qua è infatti è importante anche nel gioco anche nel gioco dov'è no 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 a terra aspetta l'ho ucciso speriamo giù 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 speriamo è andato via sotto 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 c'è gente io mi sono imboscato qui a metà raga va bene bene ecco di militare la massa ricarica io sto con il servizio di guasi ui raga ui raga oi 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 perché che è che sta arrivando qualcuno uno sopra uno sopra e io ho andato allora tu guarda di lì non girarti tu guarda sempre di lì o guarda la porta di qua ma che io sto guardando la porta aperta bravo eccolo a terra dentro un gabiotto scusate mi sono sfogato dove siete sotto tetto siamo a pieno metà mi prende sono io ok mamma mia che paura oh la maschera attenzione raga arrivo arrivo è tranquillo ci penso io prego oi 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 raga carica miseria carica 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 volevo andare un secondo non aspettare dall'altro lato oggi che sta arrivando in via ma quanti ero dentro con la stanzetta ma dai è inutile è inutile è inutile ma dai no ma caspita ma quanti erano quanti sono arrivati 500.000 troppa troppa gente ma no no dai la mina aio oh rischieramento raga mamma mia no il tiburon resisti marco eh raga nasconditi ma una massacrata eh niente nasconditi ma sono qui va bene dai dobbiamo cambiare zona 15 secondi dai stanno arrivando non ti vedo non ti vedo non ti vedo non ti abbassi ne hai uno dietro ne hai uno dietro dietro entri di qua eccolo non ti vedo no non mi hai visto non mi hai visto hai visto eh che grande che sono oh no 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 ma come fatto vedermi siete risponati voi ah va che stronzo ok perché siete arrivati voi perché a me nemmeno il tempo di scendere porca loca mi ha visto mi ha visto dove cavolo mi nascondo io adesso grande subitutto che ci vuole ho visto da che arrivo allora era una cattiva idea di venire a chemica se è la prossima il pub lo sceglierà la raga la raga la raga sono qui gli stronti ce ne sono troppi sul tetto non ci credo ragà scusate ce ne sono tre sul tetto eh sono loro i capi tutti sul tetto eh sul tetto ce ne sono tre eh tre ce ne è sul tetto comunque occhio occhio Pippo che hanno lanciato quelle bombe per localizzare lo conosciuto quindi stanno lo stanno lo stiamo ok io sono ritornato eh ok no c'è il il coro qui la nebbia ma porca loca vabbè questo di essere imboscato eh effetti ritrovati alla prossima destinazione un tuo alleato appena rientrato contratto aggiornato nuovo obiettivo arriva il gas allora dirichi chi è niente vai grazie vai la cazzapola dalle stazioni di acquisto ritoccati no 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 Ma come ho fatto a vedermi Ma come ho fatto a vedermi Caspiterina Se vuoi dare i soldi a subito Ecco E voi qua Ma che devo fare Andiamo a prendere Che spiterina Ciao Benvenuti ragazzi Stiamo facendo una bella partitozza No A terra A terra Sta arrivando Morris Dov'è sta Qua Ecco Dov'è come vero I bimbi Sparate Sparate lì Che ci vado L'altro lato Morto Io sono morto Quest'anno sul tetto 24 secondi arrivo Sparate al buco Sparate al buco Cosa Ciao Maurizio Bersol No i soldi I soldi sono buoni In cazzo per rischierarci No Non ci credo Ciao Ciao Maurizio Sei arrivato? Adesso finiamo la partita E facciamo entrare Che il mitico Morris Sì Sì Lascio io dopo Al cacca Tranquillo No no ma tanto per ostacole Fra poco vado a letto Tranquillo Vipo Ok Mi rimani in live però eh Prima di andare a letto Va bene? Grandissimo Sì dai In qualche minuto ci rimango Lo stacco dal party Perché tanto per sento un po' attratti Ok va bene Va bene Va bene Ok ok Morris dai Stiamo saltando Aieieie Mamma mia Io faccio un sorriso Ma ha fatto Cis Ah Non ci sente niente È un casino Ah boh Ok Ok dai Grandissimo Ciao Ale Grazie di tutto E ci vediamo Stai in live E ci vediamo La prossima volta Ok amico mio Grande lord Ma non si sente niente Mi sentite raga? Killing Ci siete? Non lo so Ci siete? Io sento Ciao Ok Che cosa è successo? Io vi sento Io vi sento Ciao grandissimo lord Ti ho salutato Grazie mille Ci stai in live E ci vediamo Alla prossima Ehi 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 Io ti sento Ti sento Ti sento Ti seguo in live Un pochino Ciao Ale Ciao Ale Ciao 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 Ti sento Ti sento Ciao 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 Buonasera Grandissimo Moris Questo è il ragazzino Di dieci anni Che se lo vede Giugare Non è un pochino C'è l'amico Zuvitullo Stasera Moris Grande Grande Zuvituzzo Zuvituzzo Ti manco Puoi avviare Vai Ma mi sentite Io ti sento Oh E' bello Allora Ciao lord Guardiamo che non si sente niente da party Stasera un casino Mi dissocio da l'alto 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 Dopo che vi lo vedo Essendo tanti nel party ragazzi È un po' un casino che sentirci Poi non è che vada tanto bene Stasera Lord 19 Mi dissocio Categoricamente da te Oh Eh Giugno 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 Hai visto che è arrivato Morris Ti saluta Giugno Morris Ciao 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 che bellissimo Oggi sono anche un pochino assommato Che Sono andato un pochino tardi Eh sì Effettivamente È dieci e mezzo Si è arrivato tardi Eh Sono bravo anche Abbiamo la possibilità Di dove sei Morris? Che senza dove sono? Di dove sei? Ah di dove sei? Eh Sono di domani Di? Di Di domani E dov'è? E provincia di dove? Di Di cos'è Ah di cos'è Grande Morris No solo grande Morris Ho detto Bravissimo Così Allora dai 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 che si parte Dai che si parte Speriamo che parta la partita Eh Speriamo che parta la partita Forse Forse va Non ci vuole fare tutte le kid Morris Mi raccomando Ok 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 Ma zoomituzzo Tu Da che console stai Giocando O col pc Non si sente Quando in pre lobby Forse Raga Ciao Ciao Chris Ti saluta Chris E Morris Mi sentite raga? Sì Ok Ma zoomituzzo Tu da che console O che pc Da cosa stai giocando? Col pc? No No Non ho capito Da che console giochi O col pc giochi tu? La ps5 Ah allora scusa Possiamo anche Cambiarci di di Che facciamo il party Della ps5 Che va meglio Di sta cagata Qua di gioco Se ti va Siamo tutti Da ps5 Eh sì Da ps5 Sì Va bene Sì si sente un po' male Il party Diciamo qui nel gioco Del gioco Ma poi Quando carica la partita Stacca l'audio Quindi Pensavo che era da pc O da xbox Allora vabbè Ma se è così La prossima volta Ci facciamo Ci scambiamo L'id Della play Non lo so Per me andiamo a living A living Dai living Andiamo a casa verde Casa verde Dai Si è perso l'ultima partita di oggi Vi do Mettete ping Andiamo a living L'ultima partita che ho fatto Andiamo a living Dai proviamo Dai dai Pingate pingate Ragazzi Io non so mai Dove essere Sì Viola Viola Vai Viola Bello gioco gioco Io ti prendo la playstation Che tipo non puoi capire Ma che succede? Che succede? Moris Lo so Faccio scoppio No Perché non si trovano qua altre playstation Attenzione Ragazzi Ragazzi Sì è sopra? Sì è sopra? Non lo so Questo è sopra il tetto Per ora Per ora ho trovato questo E mi tengo Cappato? Ok Io una terra sopra il tetto Ma lo scudo dietro alle spalle Sopra il tetto Quale è? Quale è? Craccato Si è arrestato Devo trovare un'arma Lo pusho Lo pusho Vai 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 Terra Terra Non ti può sentire Non può vedere i messaggi Ragazzi Ok Allora Io arrivo eh Però va a terra Dove? Ne sto arrivando Attenzione Eh sì però Un'arma Un'arma Non ho un'arma Io ci sono Perché l'ho detto Non è una grande zona Questa qui però Ho sbaglio Quando si trova Armi Quando si trovano Armi Abomenevate Che se no Ci muoio Rimane Rimane In vita Moritz E' un boy Ciao Mi sentisce Grandissima live Ragazzi Imiti copriera Ok 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 Rimate C'è la mia Cettinate Grandissimo lord Sei stato bravissimo lord Dove sei? Dove sei? Aspetta Io sono sul punto viola Viola E' Il tiburon Ok Verde Giubituzzo E' qui E dove sei Imiti Come Papà No Sei di là Ok Perfetto Arrivo Non ti può sentire Il gioco Devi fare le domande E io gli dico Lui Dimmi tutto Fai la domanda A lui Mi amore Giugiu Giugiu Cosa che Dicevi Si 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 Aspetta Se sta facendo Qualche provino Per un team Nuovo Ma Giugiu Ancora te l'ho detto Non si può sapere Queste cose E poi Il gioco Cosa vuoi sapere Uno sul tetto Chiuso Chiuso E il gioco Ho detto Di rispondere A domande Ho chiuto C'è uno sul tetto Si l'ho fatto Ho un bombardamento Raga Lo faccio? Ma dov'è? Pinga pinga Ah mi ha fatto Da bio Sono restabile Con questo Corpuno sale Arrivo Perché mi son perso Siete distantissimi Arrivo E sono qui Nella casetta Io Se sei a metà Sto arrivando Ah ok Ti sto curando Perfetto posto Già Noi sta arrivando Uno Sono di passi Giugiu Aspetta Che Che chiedo Iuto Io sono sotto Scrive Io devo Mi scrivi Giugiu Chiede questo Ma Vuol dire qualcosa Non voglio morire E non lo sappiamo Non lo sappiamo Mitica Vai datemi i soldi Che ne compriamo Non lo so Maurizio Sei in chat Mitico Sì È in chat Chiedeteli direttamente Ok vado a comprare Io non so niente Ragazzi Dai venga a coprire Siamo tutti qui Siamo tutti qui Però ragà Fighissimo Fighissimo Sta cosa Che siamo tutti qui Oh zu mi sto sparando Chi è Che faccio Che stress Che sei Ma vi sta andando Vai non ve l'ho andata Prende il lancio Eh caspita Ve l'ho buttata Dov'è? Arrivo 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 Eccolo qua Avete una cassa di munizioni Che lo avevo Ecco Attenzione Attenzione No io non c'erano le munizioni Ah è un colpo morto in te Bravissio Grande Andiamo 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 Attenzione ragazze Movimento Aspetta ragazzi Sto facendo schifo stasera Scusatemi Dimmi tutto Il grigio Il grigio Dell'invenibilità L'ho fatto Mi è riuscito E come hai fatto? Eh Praticamente Qua Arrivo Una terra Oh Devo curare Attenzione Attenzione Oh C'è qualcuno che spara tipo col cieco? Aiuto Morris Aspetta C'è un cieco ragazzi Attenzione Una terra Marco facci vedere delle kill Ok Il grande Maurizio Eh Ci provo Salita sopra che c'è uno L'ho ucciso Maurizio Per fortuna che c'è tuo figlio E c'è il mitico Sui tutti Se l'ho qua Aspetta fermo Non lo c'è Ti prego Ti prego Dai One hit Se non muore No Ecco bravo Dai Marco Ci provo Speciale a quello Non l'ho vista Quello di Ci provo Maurizio A b A b Seduce di me Faccio fuoco Più Più Arriva Arriva A verde Chi è morto Vieni dentro Vieni dentro Attento Lo tiro su io Lo tiro su io Vai tra film Attento Morris Grandi ragazzi Così si fa Qualcuno vuole i soldi Devo capire Dove si trova Ho mandato un corso aereo Raga Qua Non è arrivato Attenzione Non è arrivato One hit One hit One hit Lei è morto Praticamente Vai Attenzione Dietro Alla scala Alla scala Alla scala Marco Marco Scusatemi Sì 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 Assoluta È stata bella Raga Otto Oh io uno L'ho ammazzato Grande Vai vai Ricomincia Ricomincia Ci stiamo scaldando Arrivo Grande Raga Grande Zui Quattro Solo un C Grande Morris Ti sta scaldando Il mitico Morris Ah ok Ok Marco Dimi tutto Marco Dimmi dimmi Ti sento Io ci sono Ti sento Marco Oh caspita Ti sento Morris Non mi senti Dai Marco Fai fare qualche sondaggino Così poi Lord Tarocca tutto Ti sento Ti sento Morris Il tuo figlio che fa le storie Che fai il botto flip sulla testa Davvero? Ah 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 che forte Leo Fai il botto flip sulla testa Non so cosa sono però Mi sentite? Marco Ti stavo dicendo Come si faceva Quello dell'invinibili Eh dimmi tutto Come si fa? Praticamente si prende Quella cosa che Non ti fa morire Dalla safe Sì Qui si mette Dentro la safe A metà Ti prende E si esce E si esce E si rientra Ah ma la safe Non nel coso Nell'elicottero No dal No dal coso Che si dice Dal gioco Ti esce E si rientra La safe Dentro qualcosa Ah ok Non ti dovrebbe più Far da Non la safe E quindi sei Ah figo E sei riuscito a farlo? Eh sì Non ci sono riusciti Eh dai La prossima volta Che siamo magari Che non siamo così Intanto Proviamo a farlo La giocità La giocità La giocità Dai control Control Facciamone una La nave C'è sempre partito bene La nave No? Voi che fa la nave Se volete provare la nave Io vado a control Dai andiamo a control Andiamo a control Dai andiamo a control Control Vai tranquillo Pingatemela però È già bene Ok Bella Tutti nella zona sicura Si avvicina rapidamente Sovravidete per far rischierare i caduti E accumulate punti perché tornino più Ok Ok Eh Faccio l'UAV? Ok Andiamo giù Andiamo giù Ma sopra c'è nemmeno gente No Sai che non c'è nessuno No c'è gente C'è gente sicuro C'è gente? C'è gente C'è gente Oh cacchio Marco mi devi fare un piacere Dimmi Ah no no c'è Quindi non c'è gente lì Sta arrivando un nemico Vediamo l'alto Ma pregredo che sono Ho giù pure Non c'è nessuno qua No no Poi è giù Siamo andati già a prendere A comprare A shoppare Già 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 State lì sotto Vi sono i soldi Ah già fatto Ah ce l'hanno già Siete sopra voi vero? Allora 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 Sul tetto Sul tetto Vengono Credo proprio di sì E c'è anche Marco Drums Games al Games Week a Milano ragazzi Con le magliette probabilmente Quindi vi aspettiamo al Milan Games Week Ti vuole quest'arma che è bella forte Se la di buttar via la prendo io volentieri Dov'è che è? Occhere le cose Ma se la faccio questa? Beh No Vai Vai Ah sì Ma se no Sono pronta Voi ci serve una cassa di munizioni Giù ci sono le munizioni Ciao lord Buonanotte grandissimo Grazie della serata insieme Va bene va bene Grande lord Ciao mitico Buonanotte 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 amico mio Allora Uh c'è uno C'è uno là No No Pingalo Pingalo No No Come si fa a pingare lì Lì Quello giallo il mio Quello è questo Che c'è della smoglia che dici Oh sto Oh sto Oh sto Bellissimo Siamo su ancora qui Ah no Non è riuscita Bersaglio C'è munizioni Forca tua Va bene Bello quel fucilato lì Rega lasci i soldi qua Prendete una cassa munico Dove sei Ho visto che stavate scendendo Giusto Ah ecco qua i soldi miei Aspetta Io non ne ho ne ho Marco Dammi sonno Non mi ricordo più quello che si scarta Ma se non ce li riusciamo No 300 No hai mano E io non so più niente Mi arrivo qui dentro Aspetta Vada a vedere qui dentro se ci sono so Beh E là si trova Mi sono più niente Appena una taglia ragazzi Dile provati Dammi Dammi Quella è la destinazione Dai vieni Vieni Ciao Mi senti Twiz Beve l'ultimo 300 300 Non ce n'è E' genio E' genio E' genio Io ho trovato Morris ma Subittusi Ma si è andato lontano Si è andato via No sono andato a prendere la taglia Sì Sì Andate a prenderlo Ok Taglia negata Sto subendo il fuoco nemico Andiamo Andiamo Ma li dati 100 euro Mi devo prendere una cosa Tieni Li ho trovati Li ho trovati 100 euro Eh ne ho pure tanti Ne ho pure tanti Sì sì Uno sul tetto Sì 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 giù 40 minuti Sono in Fiera Milano Ci vediamo in Fiera Milano Ok Non c'è più Non c'è più E' scappato raga Mi ha mandato una nave E' nessuno qua Vedi Morris sta aspettando gli accrediti Grande Morris Dai ti voglio vedere Maurizio E' grande Morris In Fiera Milano Raga Dobbiamo andare Dobbiamo andare sopra Pryson Ce li dobbiamo fuciare Sì Sì Se stai parlando Marco Trams E Morris No Però Spero di Vederli in Fiera Milano Bravissimi Dobbiamo salire sopra Pryson Se non Già lo facciamo Venite Corriamo Arrivo Arrivo C'è un soldato nemico No ragazzi Dentro Dentro Uno l'ho segato Uno l'ho segato Amici No da dentro Ah non bisogna Da dentro Oh cazzarola Saviamo Saviamo Ok Una terra Aiuto Aiuto Correte Correte Aiuto Però Arrivo 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 Lo so Amico Amico No Cosa ha detto Maurizio Dipende Eh Ci penso io Maurizio Faccio io la sicurezza Maurizio No Beh Settimi Raga Dai Bella 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 Decimi Giusto Prima Ottavi Settimi La prossima Arriviamo Primi Dai Tu Zubi Ti riesce a fare Un 2 3 partitelle Prima di andare Come mi dicevi Prima Ok Dai Dai Grande Grande Grandissimo Faccio io Il bodyguard Di Maurizio Va bene Tanto sono Bello Grosso Mi metto La maglietta Marco Drums Game Staff No Come possiamo Dire Ti faccio io Da bodyguard Dai Da bodyguard Hai capito Morris Ti faccio io Da bodyguard Quando vieni Su a Milano Schrivo Dietro Alla maglietta Security Per quello Ha problemi Grazie Maurizio Ok Raga Tu Pierpaolo Vieni su Per Fiera Milano Mova 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 È bello Come nome Mova Sarà un posto È un bar Nella discoteca Un ristorante Ciao Sharder A domani Mitico Domani Il mitico Gran turismo Ciao Sharder Ciao amico mio Buonanotte Vi sentite Raga Caspita Non sento più Nessuno Mi sentite Forza ragazzone Ok Comunque la prossima volta Facciamo party di Playstation Perché Parti qua di gioco Non funziona mica tanto Eh È vero Sharder Stavolta la voglio Bella Dai Facciamo la bella Control Adesso mi si sente Raga No no ti senti Ti sento Ok No perché mi scrivono Ciao Chris A domani Ciao amico mio Buonanotte Buonanotte Ma sai che cos'è Morris Il party Di gioco Che non si sente No Non lo sapevo E non sono mai dato Perché Non sono mai stato Youtuber Una terra Oh c'è uno sopra Ok l'ho ammazzato Nooo da dietro Ragazzi Attenzione che stanno venendo su Sul tetto eh Che power Uh Che gol Grande maori E dai guarda però Caspita Hai visto giù giù Tanta roba eh Ok E lì vuoi Uno qua Mezzo Ragazzi mi sentite Ah ma voi qui Siete Sì Eh ma è da prima Che cacca Stacco Io vi sentivo Ma voi no Io sono qua con Morris Ma io in realtà Sono andato Dove siate andati voi Siamo qui dove c'è Il furgoncino Invece Invece Che non è buono Sto parte Abbiamo Quasi i soldi E' buona per trovare i soldi Perché c'è tante casse Tanti soldi Ok Ok Checchino Checchino Eh datemi soldi È uno youtuber Hanno festeggiato L'anno scorso Ma chiesto dove è il MOBA Si è sapere Il suo problema Ma con la caccia La caccia Io non lo so Allo shop Dove è Tanti soldi Attenzione C'è tanti soldi Dove è sto cecchino io porto i miei soldi e volete guardavo stavamo volete i soldi lo sto buttando 1.2 si lascia i soldi lì che prende la cassa muni da 9 da sopra da 9 e la guarda ti faccio il simbolo guarda lo faccio io l'ho presa la cassa mi serviva un cecchino sbagliato a prendermi la diamante ma dove non li vede mi sparano ma non li vede che figata arrivando 1 che figo maurizio anch'io vorrei entrare in questo posto anche marco drums games meriterebbe di entrare in quel posto lì con tutti gli youtuber maurizio arrivano volando non è meglio se ci spostiamo raga prego dimmi che ci aspetta un attimo vedo se c'è il cecchino se saliamo ti ci porto vuoi quello mio maurizio c'è uno qui non mi serve la mitraglietta mi serve grande maurizio allora si ok raga tagliate questa pingue per poi quello giallo tolto occhio occhio qua non lo vuoi più no no mi serviva lo stimolante raga pusciamo contro si aspetta c'è gente andiamo a coltare andiamo a coltare attendo ok sono su vieni hai spaccato un cartello vieni subituzzo e dov'è ok siamo tutti vai andiamo al living si al living dai ci scende oh raga stavo sparando gente qua arrivando una cassa di scorte una terra arrivo siamo tutti nella zona sicura nemico in arrivo nell'area madonna quanto correte forte voi raga una terra un'altra pure terra ok bravissime arrivo io aia aia ragazzi 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 sto dietro dentro la casetta dentro la casetta oh no 2 caspita non mi fa fingare uno sotto ancora bravo moris abbiamo fatto con la casetta moris si si mi tutti mi ha fatto la nuova zona sicura cosa hai fatto qua ragazzi bravo bravo da contro da contro occhio che da contro c'è 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 chi venite venite attento moris che c'è terraturo su quella casa lì è sul tetto appunto l'ho terrato morto sul tetto sul tetto il tetto dove di cosa tetto di lui vuoi tu un altro morto aiuto sono sempre dentro da sotto living aspetta aspetta che siamo in una situazione attenzione che sta nella finestra attenzione gioco gioco di riportarmi 100 persone sul canale per entrare anche tu nel mobile dai forza forza che stanno campionati a mettere l'erbo che sta alle scale nelle scale cazzo si manco dove si intende le scale attenzione lì qui mi hanno ucciso si attenzione che sei giù oh mio dio candina bomba una granata eccolo 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 l'ho no 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 grazie 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 ma questo che faceva i cosiddetti aria uscito non lo so neanche io dai morisci avete coraggio mi sembra coraggio oh io sono appena rientrata io c'ho 25 secondi come lo gioco dai 100 persone qua 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 terra terra grande devi portarmi 100 persone da oggi in più ogni turno ho fatto un altro l'altro dunque l'ora no attenzione in mezzo alle tende morisci lì ce l'hai di fronte seguito alle tende eccolo qua moris ma se segnalino eccolo qua eccolo qua ti chiedi ti chiedi ti chiedi ti chiedi ti chiedi bravo 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 f1 player ciao grandissimo iscriviti al canale grandissimo no io non ne ho gastre una no 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 ok si vieni 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 venite venite scrivi l'amore che devo dire un punk c'era una claymore davanti a me non l'ho toccata per un millino dammi dammi per un millino vieni qua dentro entra dentro casa verde se noi siamo proprio addio qua ragazzi sta arrivando una terra dentro lì ho lì le coratte ragazzi lì un altro che sta salendo corazze corazze dammi dammi corazze raga grande grande buonissimo dobbiamo andare dentro quella casa come faccio a tirarvele giù come faccio a buttarvi giù ragà grazie mille come faccio a buttarvi giù le corazze amici mi sentite? oggi sono scappato ancora corazze volete? io ce l'ho ma mi sentite? ok 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 grande F senti la live se si sente la mia voce perché non mi stanno corretta corretta via no 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 grande morizio grazie no ragazzi cosa va bene va bene ciao 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 morizio grazie grazie di tutto ci vediamo la prossima la mitico ciao 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 morizio perché la gente strana questa qui dai facciamo l'ultimo allora gioca ancora però terzetti giusto grazie mi dico moris grandissimo grandissimo terzetti e ci siamo in tre poi c'è qualcuno che vuole entrare no facciamo l'ultima poi andiamo perché si c'era sharder ma è andato via poi kevin ora che accende tutto grande maurizio rimani qui dai che andiamo al mob insieme il mitico youtuber marco trams si moris è andato se volete potete fare qualche collaborazione che aiutate caspita assolutamente sì per me sarebbe fighissimo e intanto giochiamo ci divertiamo bella bella grazie grazie ciao moris buonanotte si grandissimi ragava è stata bellissima stasera però la prossima volta sui facciamo dal playstation è ha detto subito si non ha detto no ha detto si tranquillo facciamoci una partita stasera certo certo si si tranquilli tanto tanto sai che siamo tranquilli anch'io tutti siamo tranquilli bravissimo non lo fai solo il lunedì e il venerdì giusto ma c'è vabbè sta settimana c'era la pasqua un bordello di qua di là ieri non funzionava quindi abbiamo spostato ma lunedì e venerdì sì il resto faccio gran turismo 7 sempre dalle 21 giusto 20 e 45 dai invece sabato la domenica un po più di tempo faccio dalle 3 alle 6 e poi dalle 21 in poi subito invece tu quando porti un grande maurizio ma io vado un po casaccia a volte faccio una settimana di buono poi 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 principalmente sto su gt però per adesso il gt non è che funziona tanto bene online ogni tanto fai capricci ma non c'era l'aggiornamento a gran turismo ma c'era l'aggiornamento a gran turismo domani dovrebbe essere dovrebbe essere una pace ma vi sentite io sì ma con me no perché ti ho detto sì poi due della pace ma mi sento no no comunque assolutamente la prossima volta da playstation è perché questo qua è ridicolo il partito gioco è che ci facciamo l'ultima raga quando quando cominciano tranne campionati poi intero sempre è figo è mai fatto tu marco campionate suggeriti no mai ho fatto un po di gran turismo sport ma sai che io portavo tutti i giochi dei one tipo adesso tipo 7 8 giochi arbor proviamo proviamo arbor ci sto io ci sto ragazzi io ci sto visto ci sto arbor non mi dissocio non mi dissocio è quello che il pig verde c'è genio ammazziamo il questo è il seguito c'è genio ammazziamo la porta dopo c'è corrente d'aria ci sono le corazze qui se le volete arriva adesso arrivano arriva 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 9 è qui dalla porta no da piano terra qui siamo noi e che è qui mi sono occhio che marco c'è qua c'è uno eccolo qui dove sei chi vuole i soldi a terra tanto tutto dovrebbe essere un altro hai sentito la canzone alla fine non mi sono più ricordato mi scrivi ancora che canzone è che la sento subito la parola per la live qui 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 metta le scale metta le scale dov'è dove le scale giugio metta le scale giugio attenzione marco alle spalle alle tue spalle le scale ok arrivano eccolo 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 dai che bazooka ma dai ma come è possibile come fa questo qua col bazooka guardalo me la descrivi la canzone mitico allora voi siete ancora qui né non è che adesso sta arrivando un botto di gente raga qua dobbiamo spostarsi non scusate mi dissocio no siamo in live scusate scusami ma non volevo vai tranquillo vai tranquillo vi erai bannato a vita moris ha staccato subito perché la moto si chiaro chiaro ma vai tranquillo mitico maurizio comunque è importante che cazzo mi hai fatto venire un colpo importante che ci divertiamo poi poco tanto attenzione che sparano sul tetto da dietro raga è da dietro è da dietro mi hanno colpito ecco mi hanno colpito sul tetto di pronto bene No, no, che miseria Esce fuori la destra L'hai atterrato, bravo Quello io mi ha massicato anche a me, c'è un sacco di soldi se volete Ecco l'altro È craccato l'altro Vicino alla macchina Quanti soldi, raga L'ho visto, l'ho visto Ma siamo quartetti o terzetti? Tre Eh raga Tre Mi sentite? Mi sentite? Terzetti Quartetti? No, tre Ma come? Io ho fatto terzetti Ah Eh, io sono morto Avevo 4000 dollari Ok carino, vai verso Conto Vai verso Nova Nova Vai qua Dove hai messo il mouse? Qui non c'è nessuno Dai, sei, cinque Quattro Tre Dos One Uno Via Oh, che bello Che bello Io sono morto Mentre scendevo, raga Mi hanno sparato Mi hanno sparato Oh, grande Maurizio Io sono contentissimo invece di avermi conosciuto E che giochiamo insieme a grandissimo Morris E che giochiamo insieme anche a Gran Turismo Maurizio Io ti voglio Gran Turismo Eh, voglio fare una partita io e te e basta Ok? Quindi sabato, se ci sei Pomeriggio facciamo io e Maurizio A me piacciono le live tranquille Tranquillissime Più tranquillo possibile Ci siamo allontanati? Eh, diciamo, non dovete andare a prendere le armi Io sono qua dove sei tu, eh Pierpaolo, dietro di te Oh, Pietro, dietro, dietro, Pietro Dietro, dietro Dove? Dove, sotto? Eh, sotto, sì, 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 caspita Attento, Pietro Ah, è venuto È venuto dietro di me, sto qua No, 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 Pietro Ti è ammazzato, Pietro? Sta all'altro, attenzione Attenzione, di pronto Va bene Va bene Ci sto Macchina uguale Ci sto, ci sto Va bene Va bene C'è la live che prova che non lo sto imbrogliando Va benissimo Oh, raga, raga, aiuto Eh, qua è pieno, amici, eh So, vittime, attenzione Attenzione Ci sto, Maurizio, ci sto La compri tu, però Va bene Ma dai, ma dai Va bene, va bene, va bene Ci sto Stavo aspettando È un casino venire giù qui, eh Vedi che hai avviato i quartetti Sono in quattro Eh, boh Io a me sembrava di aver avviato i terzetti Però Ma scusa Non dovevo buttarci dentro uno così Piero, mi senti? Sì, le squadre sono da quattro Eh, ma io ho avviato i terzetti Non so perché Ma non dovevo buttarci un altro dentro a caso Quando fai così Eh, ma dipende Posso non ti abbandonare Ragazzi, ragazzi, per favore Vai Non sento niente E rinforzi sono in arrivo Che disastro Qui siamo al sicuro Dai, fammi giocare Marco, dove sei? Sono morto Adesso arrivo Stai, ammazzo Stai, ammazzo Stai, ammolito Eh, ragazzi Sono sul tetto Sono sul tetto Dai, otto è buona Dai, otto è buona Grande, grande Buona serata Grandissimo Eh, vedi che va via l'audio Aspetta un attimo Mi sentite? Ragazzi Sentite? Ehi, mi sentite? Ragazzi, vado Ci becchiamo alla prossima Grandissimo È stato un piacere averti E ci vediamo la prossima volta Grazie Ciao, Mitico Ciao, Zubituzzo Ciao, ciao, ciao Buona serata a tutti Grazie a Zubituzzo Che è tra Esatto Grazie a Zubituzzo Ciao, bello Alla prossima Mitico Ciao, ciao, ciao Marco, buonasera Ciao, ciao Pia Paolo Grazie mille di tutto Ciao, ciao Zubituzzo Buonanotte Buonanotte a tutti ragazzi E anche voi amici di Twitch Ciao Ci vediamo domani sera Con Gran Turismo Ore 20 e 30 Ok, amici Di Twitch E grazie per essere stati con me Scusate se non ho Proprio parlato Proprio con tutti Ogni cosa Perché c'è un po' di casino in chat Ma grazie mille a tutti Alla prossima Ciao, amici